Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su questo canale. Io sono Simone e oggi prima di intraprendere l'argomento fragranze economiche volevo scambiare due chiacchiere, forse più che due chiacchiere, quindi cercherò di avere un andamento abbastanza veloce, abbastanza rapido, se no rischio di addormentarvi. Prima però volevo dire che i feedback sull'ultimo video sono stati più che positivi, ho ricevuto tantissimi commenti sia sul canale che su Instagram, quindi volevo ringraziarvi davvero tantissimo. Rinnovo le mie scuse se non riesco ad essere costantemente sul canale come vorrei ma mi è davvero difficilissimo e detto questo entriamo un po' più nel vivo del video. Essendo un canale ancora molto giovane forse non ho ancora un'identità ma non voglio sembrare un canale ruffiano dove parlo di svariati argomenti semplicemente per ricevere qualche like in più o qualche iscrizione in più. Non voglio sembrare arrogante anche perché non lo sono ma penso che sul mio canale si debba parlare di ciò che più amo io. Sono sempre stato aperto nel ricevere consigli lo sapete anche perché mi piace ascoltare le vostre richieste e cerco di portarle sempre sul canale e penso che se il canale vive è solo ed esclusivamente grazie a voi. Però ci tenevo ad aprire questo piccolo dibattito. Premetto che non è assolutamente un video che vuole fare della polemica ma so che probabilmente mi farò molti nemici. Ho ricevuto molte richieste sull'argomento fragranze equivalenti. In realtà non solo sull'ultimo video ma sono domande che mi vengono poste frequentemente e su questo argomento devo aprire una delle mie solite parentesi grosse come il mondo. Allora io sono un grandissimo estimatore della profumeria a 360 gradi. Non sono un professionista l'ho sempre specificato ma sono un amatore un appassionato. Ho sempre avuto a fianco la figura di mio padre che anche lui era ed è tuttora un grandissimo amante di questo mondo e quindi era quasi scontato crescessi con questa passione anch'io. Quando dico di essere un amante di questo mondo vuol dire che non amo solamente la fragranza ma anche tutto ciò che c'è dietro, la sua essenza, il suo spirito, il suo packaging, la qualunque. Cerco di essere un po' più chiaro, vi faccio un esempio. Io casa di moda commissiono un naso profumiere per lanciare la mia nuova fragranza e stabilisco un budget. Il naso cerca di capire innanzitutto dove la casa vuole andare, a chi vuole indirizzare la fragranza o che cosa questa fragranza vuole interpretare. Insomma cerca di capire secondo i loro canoni chi deve indossare questo profumo. In più in base al budget stabilito il naso andrà alla ricerca di note olfattive più o meno preziose. Quindi il naso dovrà fare un lavoro non indifferente che ovviamente verrà retribuito. Una volta poi trovata la fragranza si cercherà il testimonial, ci saranno degli eventi, dei lanci, pubblicità eccetera eccetera. Insomma cosa voglio dire con questo? Voglio dire che tutto questo lavoro si paga. Se poi a farlo è una casa importante si pagherà ancora di più perché ci sarà un nome di mezzo. Comunque con tutti questi giri di parole che cosa voglio dire? Voglio dire che io questo lavoro lo apprezzo, lo apprezzo, lo rispetto e lo pago. Non perché mi piace spendere i soldi o buttarli via, lo pago semplicemente perché lo ritengo corretto. Non ritengo corretto invece che tutti questi signori che fanno profumi equivalenti debbano rubare un'idea. Mi dispiace, quella no, quella non la pago. Detto questo non voglio lanciare un messaggio sbagliato. So benissimo che spendere 80, 100, 500, 1000 euro per un profumo innanzitutto potrebbe non essere alla portata di tutti e spesso volentieri neanche alla mia o addirittura si possa pensare che magari un profumo non valga tutti quei soldi. Io personalmente sono un appassionato e un collezionista. Ma come potrebbe essere un collezionista di sneakers che magari spende 2000 euro per un paio di scarpe da ginnastica piuttosto che un appassionato di Franco Bolli o qualsiasi altro tipo di appassionato. Per me è una semplice questione di rispetto. Per come la vedo io acquistare un dupe è quasi come acquistare un falso alle bancarelle. La differenza sostanziale è che il dupe ha un packaging diverso e non ha lo stesso nome ovviamente. Che poi tutte queste imitazioni ai profumi originali fanno solo che bene perché è una pubblicità grossa come una casa. Proviamo a ragionare al contrario. Immaginatevi al vostro lavoro. Vi viene un'idea brillante, geniale. La società vi dà fiducia. Quindi per portare avanti il vostro credo e la vostra idea spendete tempo e magari anche denaro. Tutto questo vi porterà a dei risultati. Farete anche successo. Poi però un giorno arriva il vostro collega, vi ruba l'idea, la fa sua. Dopo tutto il sudore che avete buttato via voi lui non spenderà né una lira né una goccia di quel sudore e vi porterà via una fetta di quel successo. Poi magari arriva anche un altro collega e farà la stessa cosa. Insomma non so voi ma a me girerebbero le scatole. Non voglio fare discorsi moralisti però questo è il mio pensiero. Giusto o sbagliato che sia. Ripeto so che probabilmente mi farò dei nemici perché non tutti la penseranno come me. forse la maggior parte non la penserà come me. Però questo è quello che penso. Essendo molto legato al mondo della profumeria forse la prendo un po' sul personale. Difendo una categoria che sento mia. Sento di appartenerle. Detto questo chiudiamo questa parentesi che mi farà sicuramente male e buttiamoci sul mondo dei profumi economici. Prima però vorrei farvi una bella domanda. Ovvero perché usate il profumo? Mi piacerebbe saperlo da tutti voi quindi vi invito davvero a lasciarmi i commenti per capire un attimino chi siete e cosa volete da questo mondo. Perché vi faccio questa domanda? Perché penso che chi guarda un canale come il mio ma poi che sia il mio o che sia anche un altro canale. Chi guarda un canale dedicato al profumo penso che abbia degli interessi a riguardo. Interessi che magari vadano leggermente oltre il volersi profumare. A questo punto dunque allaccio un'altra domanda. Ovvero che cosa vi aspettate dal profumo? Come ho già detto prima non tutti possiamo permetterci profumi che vanno dagli 80 ai 1000 euro e mi metto anch'io nel mezzo perché io spesso faccio sacrifici per poter acquistare un profumo solo e semplicemente perché ho un'ossessione. Ma mi rendo conto che sono tanti soldi e purtroppo è una passione che costa. Costa davvero tantissimo. Dunque che cosa mi posso aspettare da un profumo economico? Innanzitutto specifichiamo che economico per me potrebbe essere un profumo da 25 euro, economico per qualcun altro potrebbe essere un profumo da 80-100 euro. Prendiamo una fascia di profumo economico, molto economico, quindi profumi che vanno dai 25 ai 50 euro massimo. Che cosa mi posso aspettare? Possiamo dire che mi posso aspettare, almeno io personalmente, mi posso aspettare delle fragranze molto gradevoli, a volte anche molto buone, ma rimarrà comunque una categoria dove le mie aspettative non potranno mai essere altissime e mi riferisco a diversi fattori come le performance, come la quantità di complimenti che magari mi può portare a un profumo, l'originalità di un prodotto, eccetera eccetera. Prendo un profumo a caso che è famosissimo sul web, che è Versace di Lan Blu. Profumo che su internet si trova a prezzi veramente ridottissimi. È un profumo che mi piace molto, lo utilizzo, però non potrò mai, mai dirvi è un profumo buonissimo. Non mi verrà mai da dirlo. Vi posso dire che è un profumo molto gradevole, che ha delle buone performance, che ha un ottimo prezzo e che è super generico. Vi porterà molti complimenti, ma è il classico profumo che sa di shower gel, quindi come dicevo prima molto generico, che metterei in occasioni davvero poco, poco impegnative. E a meno che non abbiate qualche ricordo legato a quel profumo, difficilmente vi emozionerà. Non voglio denigrare alcuni profumi, attenzione, assolutamente no, ripeto, mi piace anche questo profumo. Però devo essere sincero con voi, anche perché penso che dobbiate imparare a conoscere me e io devo imparare a conoscere voi. Altrimenti sarà sempre il solito video che voi guardate di una persona che non conoscete, di cui non conoscete i gusti, quindi è giusto imparare a conoscermi. Io sono questo, io sono questo purtroppo o per fortuna. Sono qui come appassionato, non come esperto, perché tanti di voi mi danno dell'esperto, ma in realtà non lo sono. Sono un amatore, sono un appassionato e sono qui anche per consigliarvi. Però vi posso dare consigli su quello che provo io e su quelle che sono le mie esperienze personali. Se mi chiedete video su profumi economici, assolutamente li farò, perché ripeto, sono qui per voi, soprattutto grazie a voi. E penso che sia anche questo il compito di questo canale, no? Aiutarvi a cercare la fragranza adatta a voi. Ma come avevo già detto in un altro video, in me non riscontrerete un grandissimo entusiasmo, perché purtroppo per me, lo ribadisco, è così. La profumeria mi emoziona. Certi profumi sono molto gradevoli, certi profumi ti emozionano. Nei profumi economici purtroppo ancora non ho riscontrato questo. Poi magari un giorno troverò un profumo che mi dirà cavolo, che mi farà emozionare. Per ora invece possiamo parlare di profumi economici molto gradevoli. Detto questo, chiudiamo tutto ed entriamo nel merito del video e parliamo forse dell'unica cosa che ci interessa veramente, ovvero i profumi. Allora, questo è un super cheap che può valere tutti gli euro che spendete, semplicemente perché ne spendete davvero pochi. Sto parlando di questo, che è la Cost White. Allora, forse è arrivato un po' in ritardo sul canale, perché non voglio dire che l'estate è finita, perché io devo ancora fare le vacanze, quindi mi verrebbe solo da piangere a pensarlo. Però insomma, siamo a fine agosto e questo è un bel fresco aromatico. Allora, io sento tantissimo le note agrumate e le note fiorite. È una fragranza molto originale e molto molto gradevole. Peccato più che altro per quanto riguarda le performance, perché male male, nel senso che l'ho provato, e sulla mia pelle dura un paio d'ore scarse. Però ripeto, la fragranza è molto gradevole. Il 100 ml lo trovate in giro anche a 25-30 euro, quindi ne vale la pena. Molto carina la bottiglia, perché c'è il classico coccodrillo e non è serigrafato. Cioè, è proprio il coccodrillo come se fosse una polo. E poi ai bordi della bottiglia c'è questa stampa che ricorda un po' il piqué, quindi le loro polo. Se dovessi trovare una pecca... Allora, ho letto la piramide olfattiva, ho visto che c'è il cuoio e il vetiver. Il vetiver faccio un po' fatica a sentirlo. Ripeto, sento molto le note fiorite e le note agrumate. Però, ripeto, per 30 euro, secondo me è molto gradevole. Anche sul discorso performance, è vero, non dura tanto, però costando, tra virgolette, così poco, magari ci possiamo fare il bagno e oltre che vaporizzarlo addosso, possiamo andare anche a vaporizzare i vestiti. Andiamo avanti. e vi parlo di una fragranza che mi ha sorpreso molto. È una rock star del web, nel senso che su YouTube ne parlano tutti. Non l'avevo mai provato e dunque mi sono fidato e l'ho acquistato. E non è niente male. Ed è questo qui, che è CK One Shock. L'unica cosa che mi sa sulle balle è che non ha il tappo. O meglio, il tappo ce l'ha, però per mettere il tappo devo svitare l'atomizzatore o viceversa. Quindi, se tengo l'atomizzatore non potrò mai mettere il tappo. Questa è l'unica cosa che è un po' misto antipatica. Allora, è un profumo molto caldo, molto avvolgente. Le note che spiccano di più sono il tabacco e l'ambra. Anche qui riscontro una fragranza molto piatta, nel senso che è molto gradevole, ma è molto piatta. Cioè non abbiamo una grandissima evoluzione. Quello che vaporizziamo, quello sentiamo. E però potrebbe essere un profumo perfetto per le vostre serie d'estate o addirittura potrebbe diventare la fragranza firma per l'inverno. Anche qui il formato 100 ml, se cercate bene su internet, lo trovate intorno ai 25-30 euro. Quindi secondo me ne vale la pena. Performance devo dire davvero ottime, perché l'ho provato e sulla mia pelle dura anche più di 6 ore. quindi alla grande. Andiamo avanti. Allora, qui abbiamo un profumo che costicchia un pelo di più. Deve piacervi il genere. Sto parlando del mask di Kiehl's. Allora, innanzitutto vi deve piacere il genere, anche perché questa è una fragranza che gira intorno al mask. Però devo dire che è fatta molto molto bene. Allora, presumo sia un mask sintetico, anche perché per quello che costa, considerate che il 50 ml, che è questo, che tra l'altro è l'unico formato, si aggira intorno ai 40 euro. Però ripeto, nonostante sia un mask sintetico, è fatto molto molto bene, riproduce più il mask animale che quello pulito. Per quello vi deve piacere il genere, perché sicuramente non a tutti farà impazzire. Però, secondo me, per le vostre serate più calde, e non intendo a livello di temperatura, potrebbe fare al caso vostro. Un altro profumo che ho acquistato alla cieca, e che devo dire che mi ha sorpreso tantissimo, è questo qui. Azzaro Pro Home, versione intense. Io sono amante di profumi da uomo di una volta, e devo dire che non me l'aspettavo. Mi ha sorpreso tanto, perché mi aspettavo una fragranza dal carattere un po' più classico, e invece devo dire che ho trovato qualcosa di molto più moderno da quelle che erano le mie aspettative. Considerate che, vabbè, questo è un profumo uscito nel 2015. Allora, è un fougere un po' cammuffato da orientale. Scott! Si sente tantissimo il brandy, il calore dell'ambra e la dolcezza della fava tonca. È un eau de parfum, quindi è super persistente. E anche questo su internet lo trovate intorno ai 30-40 euro. Quindi, questo è un super acquisto. Ultime due fragranze che mi hanno sorpreso davvero tanto, non perché siano qualcosa di eccezionale, ma avevo delle aspettative veramente sotto lo zero. Sto parlando delle acque di Collistar, queste due. Allora, partiamo dall'acqua attiva. Innanzitutto partiamo col dire che il naso che c'è dietro questo profumo è una superstar nel mondo della profumeria, ovvero Alberto Morillas. Non sto qui a delencarvi tutti i profumi che ha creato, perché sennò facciamo notte, però giusto per darvi un'idea, uno su tutti, acqua di Giove. Parliamo brevemente della fragranza. Fragranza davvero poco impegnativa, credo sia uno degli agrumi. Più che uno dei toilette per uscire, secondo me è la classica fragranza freschissima da utilizzare come dopodoccia. Cioè, quando c'è tanto umido, dopo che siete usciti dalla doccia, per darvi un tono, una rinfrescata, questa è veramente una doccia fredda. L'ho testato, ok, performance non sono esagerate, però ripeto, stiamo parlando di un profumo che il 100 ml lo trovate intorno ai 20 euro, quindi per me vale veramente la pena. Si sente tantissimo l'agrume, c'è il limone, il bergamotto e nel fondo un timido vetiverro. Molto molto buono. Mentre per quanto riguarda Aquavood, anche qui c'è un naso importante dietro, che è Daphne Bouget e che è il creatore, o meglio, la creatrice di tantissimi profumi che lei, considerate che è la creatrice di tutta la linea di Scandal, di Aura di Mugler e di tantissime altre creazioni, ma una su tutte, che trovo un capolavoro assoluto, è il Bergamot 22 di Le Labo. Allora, anche qui abbiamo una fragranza davvero poco impegnativa, ma anche solo il nome acqua comunque fa intendere che forse vuole essere più un dopodoccia che uno dei toilette per uscire. Allora, freschissimo, però qui abbiamo una fragranza con un carattere un po' più robusto. Si sente tantissimo il pepe, quindi abbiamo agrumi, pepe e poi ovviamente il fondo legnoso. Come per l'acqua attiva, parliamo delle stesse cifre, perché anche qui troviamo il 100 ml a 20-25 euro. Anzi, visto che oggi non ho messo il profumo, metto lui, bello fresco. Perfetto, allora, io direi che per oggi abbiamo finito, e spero non abbia troppi riscontri negativi questo video, però, come sempre vi chiedo, dovesse esservi piaciuto il video, mi raccomando, tempestatelo di like, mi aspetto tantissimi commenti da questo video. Se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi, per favore non disiscrivetevi dal canale. E che dire, niente, allora ci vediamo alla prossima. Ciao!